Non mi va di rientrare. Non mi va di rientrare. E allora? E tu sei tedesca. Non vedo dove sia il problema. Non vedi dove sia il problema? No. Cosa sai dell'ultima guerra? Poco. Ero ancora piccola. Però mi ricordo che la mamma e io abbiamo dovuto cambiare casa per i bombardamenti. Eravamo sole. Poi. 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 Grazie.